Casselabate, provincia di Salerno, domenica 6 ottobre 2019, mi trovo qui in occasione dell'ottavo Memorial Massimiliano Pagano. Siamo soddisfatti della manifestazione come è andata, il numero dei cavalieri è aumentato, c'è stata una presenza anche di persone che non andavano a cavallo. Quest'anno abbiamo avuto la presenza dell'Avis, hanno donato anche in tanti il sangue, i cavalieri si sono divertiti, siamo ritornati a San Marco, l'anno scorso l'abbiamo fatta ad Alano, in Santa Maria. Il percorso è stato bellissimo, è andato tutto bene, il tempo ci ha accompagnato. Ricordiamo che c'è stata al netto delle spese che ovviamente per realizzarlo, questa raccolta oltre del sangue, raccolta fondi. Come ogni anno voi la destinate a chi? Come ogni anno la destinate all'Istituto IEO di Milano, malattie oncologiche e cardiovascolari e quest'anno il dovere ci chiama di dare una parte anche a Chicco. Infatti io contatterò l'associazione di Castellabate che settimana scorsa ha fatto un grande evento, hanno raccolto oltre 25 mila euro e noi nel nostro piccolo daremo il contributo per far sì che arrivi alla famiglia del piccolo Chicco. Un ringraziamento a tutti i cavalieri e un invito all'anno prossimo, sempre la prima domenica di ottobre. La raccolta è andata benissimo, ma quello che mi ha colpito, perché non sapevo, io è la prima volta che vengo a sapere di questo memorial e ho sentito un po' le parole del Presidente, e mi ha colpito lo scopo, quello che fanno e perché lo fanno, a parte ricordare un amico, ma devolvere l'incastro per delle motivazioni così importanti come la cura della leucemia, e le malattie altre per questo bambino che abbiamo adesso di Chicco. Ci sono rimaste perché non sapevo che c'era tutto questo dietro. Le devo dire che mi ha fatto un'impressione grandissima. L'ho detto prima al Presidente, chiamami quando vuoi, perché non c'è più l'importanza della raccolta di quando e della raccolta di sangue, ma per la motivazione per cui si fanno queste cose. Poi il fatto che hanno pensato anche a fare la raccolta di sangue non fa che fargli onore, perché hanno unito già alle motivazioni così importanti, anche alla raccolta sangue che è altrettanto importante. Noi raccogliamo sangue tutti i giorni e non è mai sufficiente. Quest'anno per me è un'emozione stare per la prima volta in questo raduno, perché ci sono molti amici e poi per Massimiliano ci sono voluto stare con tanta voglia. Bellissima esperienza, un percorso stupendo veramente nella natura. Tanto lavoro, tanto impegno, però Massimiliano deve essere ricordato.